Zoom call, Google Meet, videoconferenze, didattica a distanza, quanto tempo impieghiamo davanti alla telecamera? Come fare allora delle video call efficaci? Beh, vediamo alcuni accorgimenti che si possono adottare e che non richiedono una grande spesa. Innanzitutto alza la telecamera ad altezza occhi. È terribile guardare un'inquadratura dal basso o a volte da angolazioni strane. Diventano inquadrature drammatiche, da film, ma siamo in una video call o in un colloquio di lavoro, quindi la telecamera deve essere ad altezza degli occhi. Basterà mettere dei libri sotto il computer. Punto numero due, importantissimo, l'audio. Usa delle cuffiette, compra un microfono USB, investi un po' di soldi sull'audio, soprattutto se sei una persona che fa continuamente video call o didattica a distanza, perché non c'è niente di più fastidioso di sentire un video con un audio fatto male. Ricordati che statisticamente noi scartiamo i video con un pessimo audio rispetto ai video con un pessimo video, perché l'occhio può compensare, l'orecchio non può compensare. Punto numero tre, il background. Scegli un angolo della casa che ti piace di più. Arredati il tunnel, come ho fatto io, oppure compra un green screen. Ormai non costano tantissimo e con zoom potrai metterti un background di quelli suggeriti dalla piattaforma stessa. Questi sono solo alcuni degli accorgimenti che puoi adottare per rendere le tue video call efficaci. Ciao, sono Carlo Loiudice, ci vediamo al prossimo video.